In parte c'è stato un intervento, però chiaramente prendiamo atto che non è sufficiente, bisogna integrarlo. I 150 milioni stanziati dal governo non bastano, ne è consapevole la senatrice 5 Stelle Tiziana Drago, che ai microfoni di Telepace ricorda il rischio chiusura per il 30% delle 12.000 paritarie italiane. Ad oggi già 48 istituti non riapriranno a settembre. In soldoni sono 2.300 studenti che si riverseranno sulla scuola pubblica con costi aggiuntivi per la collettività di quasi 20 milioni di euro. Ora si gioca la partita degli emendamenti dove serve unità politica, ma tra gli schieramenti ci sono anche i 5 Stelle a fare muro. La Drago sembra fiduciosa che si possa aprire una breccia. Non mi è sembrato di avvertire molta resistenza. Sì è vero, all'interno del movimento le posizioni sono differenti, però sono certa anche che c'è chi non si esprime, il che non significa che sia a favore o contro. Però è chiaro che il movimento ha una sua connotazione. La Drago propone uno sgravio dell'80% per le famiglie rispetto al pagamento delle rette, uno sconto immediato insomma. Alla scuola poi verrebbe riconosciuto un credito d'imposta da usare in compensazione. Su questo ad esempio mi sono già confrontata e mi è stato detto che l'apertura in questa direzione ci sarebbe. Quindi per intenderci ricalcherebbe un po' quello che è il bonus vacanze. Ecco come, come dire, da un punto di vista metodologico. Alla base insomma c'è un errore, spiega la senatrice, quello di considerare le paritarie scuole private, quando per legge non è così. Mi sembra un po' per intenderci come quando noi parliamo di Unione Europea e di Europa, no? Cioè utilizziamo il sinonimo di Europa per intendere Unione Europea. La stessa cosa è quando noi parliamo di paritarie. Allora utilizziamo il sinonimo di privata per intendere le scuole paritarie. Questo è diciamo il problema di fondo.